Ciao a tutti, 22 aprile, giornata mondiale della Terra, andiamo a vedere alcune proposte di film e libri per ragazzi e adulti che trattano questa tematica. Partiamo subito con due documentari, il cui narratore è il famoso attore Leonardo Di Caprio, che è anche un ecologista convinto, si intitolano Before the Flood, in italiano reso anche come punto di non ritorno, in cui Leonardo Di Caprio discute con scienziati, attivisti e leader mondiali sui cambiamenti climatici, sulle possibili soluzioni che si possono adottare per fermarli. Il secondo invece è Ice on Fire, in cui invece c'è un gruppo di scienziati che cerca di praticamente mitigare i cambiamenti climatici. Un altro documentario molto interessante è Il sale della terra di Wim Wenders e del figlio del protagonista di questo documentario, che è il fotografo Sebastiao Salgado. Nel corso della sua vita e del suo lavoro lui ha fotografato i genocidi africani del Ruanda, i pozzi di petrolio incendiati in Medio Oriente, ha testimoniato il mondo industriale dismesso. E attraverso appunto quest'opera possiamo apprezzare e vedere, anzi con un certo timore, l'impatto dell'uomo sulla terra. Altro documentario che consigliamo è Trashed, in questo caso c'è un altro attore molto famoso che è Jeremy Irons, e parla in particolar modo della spazzatura e di come evitare che la terra diventi una gigantesca pattoniera. Poi per quanto riguarda i documentari, come non segnalare i vari planet Earth, pianeta Terra 1, 2, pianeta blu e qualcos'altro mi pare, di raccontati da David Attenborough, che è una 93enne, che però non smette di meravigliarci con i suoi incredibili documentari sulla terra e sulle bellezze della natura. Un altro film che vi consigliamo è La donna elettrica di Benedict Erlingsson, ambientato in Islanda con questa donna che vive una vita apparentemente normale, invece è un ecoterrorista che fa di tutto per bloccare le industrie siderurgiche che danneggiano la sua splendida isola. Ecco alcuni libri che ci aiuteranno un po' a riflettere sul tema della terra in tanti modi. Visto che questa giornata mondiale del 2020 cade durante una pandemia globale, subito viene in mente Spillover di David Quammen della Adelphi, parla praticamente proprio di quanto i cambiamenti climatici possono influire appunto anche sulla nostra salute. Riedito, prima edizione del 2009, riedito dalla Burrizzoli, Il clima che cambia di Mercalli che è un ricercatore e divulgatore scientifico. Un romanzo invece è Terre sommerse di Cassandra Montag dell'Harper Collins, in cui l'autrice si immagina un'America che è diventata un arcipelago, perché appunto le terre sono state un po' sommerse, insomma, da un innalzamento degli oceani. E un'altra saggistica della Chiare Lettere è l'Arca di Noè di Grammenos Mastroieni, con questo interessante collegamento tra il collasso dell'ecosistema e come questo può poi frenare lo sviluppo e la democrazia, perché ad esempio il cambiamento climatico può portare a guerre e carestie. Per quanto invece riguarda le proposte di film per bambini e ragazzi, partiamo con La profezia delle ranocchie, un film di animazione in cui appunto le ranocchie prevedono che ci sarà un uovo di luvio, diciamo, e durerà 40 giorni e come vedrete ha una bellissima storia sulla convivenza, il rispetto e la speranza, soprattutto nelle situazioni, diciamo così, difficili. Un altro film di animazione, target un pochino per più grandi, è Epic, il mondo segreto, è una favola ecologica. Ci sono queste due popolazioni che una protegge la foresta, l'altra invece vuole distruggere tutto. Di mezzo ci sarà una ragazza, una diciassettenne, che vedrete, vedrete. Un bel film invece per ragazzi, tratto da un libro, si chiama Hoot, anche ha ragione Greta Thunberg, anche i piccoli possono fare grandi cose, infatti questi ragazzi cercheranno di salvare una specie protetta, da l'habitat di questa specie protetta che sta per essere distrutto a favore di nuove costruzioni. E segnaliamo anche un documentario che è domani, è un documentario on the road di due registi francesi che vanno alla ricerca di soluzioni per salvare il pianeta. La cosa bella è che è diviso in capitoli, quindi forse anche un po' scolastico, in questo senso, agricoltura, energia, economia, democrazia e istruzione. E in ognuno condensano tutto quello che scoprono, tutte le soluzioni che scoprono per cambiare questo pianeta. Proposte di libri per bambini e ragazzi, partiamo subito con Furbo il signor Volpe di Roald Dahl, di cui esiste una versione cinematografica firmata da Wes Anderson, che si chiama Fantastic Mr. Fox, meravigliosa, in stop motion. Il signor Volpe ruba solo per il suo bisogno a questi tre grandi industriali quello che serve a lui e alla famiglia per mangiare e questi gli faranno la guerra. Secondo me è una bella metafora di come l'uomo sfrutta e poi non fa ritornare, insomma, alla natura quello che poi ha tolto. Molto bello, secondo me, anche la storia di Greta e invece per i più grandicelli Greta, la ragazza che sta cambiando il mondo con, al di là delle polemiche sul personaggio, comunque sull'apporto che possono dare proprio i più giovani in una lotta che riguarda tutti. Un libro un po' datato, ma molto interessante, si chiama Achille e la fuga dal mondo verde e parla di, appunto, Achille e i suoi compagni di classe che si troveranno a fare una gita molto speciale in una terra in cui sono le piante a comandare e scoprirete com'è andrà. Infine segnalo anche il libro The Hood di cui c'è, appunto, la versione cinematografica è un libro, appunto, per ragazzi in cui si parla proprio di questa specie di uccelli che deve essere salvata e saranno proprio i ragazzi a mettersi in gioco per farlo. Segnalo anche due youtuber Uesa, che è un creatore di contenuti e filosofo con un suo video del 2018 che si intitola Delirio Climatico e invece Adrian Fartade che è un divulgatore scientifico e in particolar modo, secondo me, interessante al di là di tutti i suoi video sempre molto interessanti Greta Thunberg e il cambiamento climatico. Per quanto riguarda le risorse gratuite inizio col segnalarvi un appuntamento speciale sul sito di National Geographic dalle 15 alle 22 completamente dedicato alla giornata della della Terra. Per i più piccoli in particolar modo è molto carino il personaggio Paxi del nostro ente spaziale europeo in particolar modo la puntata sull'effetto Serra. Paxi è questo esploratore di un pianeta di un altro sistema che come vedrete è carinissimo e spiega anche in modo abbastanza semplice. saliamo un pochino di età e vi parlo del sito di Focus Junior ci sono se cercate su Google Focus Junior cambiamento cambiamenti climatici o cambiamento climatico vi appare un video in cui viene intervistata una meteorologa che spiega ai ragazzini come mai sta cambiando il clima per chi sa l'inglese è molto carino questo video che vi segnalo si chiama Climate Change According to a Kid con una spiegazione in animazione del perché la Terra è ammalata molto carina molto bella anche la risorsa di RaiPlay e in particolar modo dei documentari sulla natura e sulla terra di Quark Atlante e infine vi segnalo adesso vi faccio vedere come cercare i TED Talk le TED Talk sono delle conferenze tenute da esperti che parlano di tantissimi argomenti tra cui anche appunto l'ambiente cliccate sul sito già nella prima pagina vi dà diciamo così una una possibilità di scelta fra varie fra varie tematiche ci sono tra l'altro anche la natura e l'ambiente di environment oppure potete andare a cercarle quindi fare discover per topics e da qui andarvi a scorrere proprio tutte le loro tutte le parole chiave che sono state date per cui non so vi interessa in particolar modo il cambiamento climatico climate change ci andate sopra e vi dà la lista di tutte quelle conferenze che appunto parlano di del cambiamento climatico o comunque lo trattano anche se non è proprio il 100% o al 100% la tematica del del talk della conferenza insomma e per oggi è tutto buona giornata della terra a tutti qui